Una rivolta generale, una rivolta per sensibilizzare tutti coloro che non sono oggi qua, ma che soprattutto non ci sentono perché non abbiamo i mezzi. La televisione se ne fotta di noi! Grazie Simone Lombardi. E quindi, un'altra cosa volevo dire, e poi procediamo. Volevo dire che la manifestazione, ribadisco, è oggi alle ore 12.24 a fine, quindi noi i presidi li continueremo comunque per far vedere che noi non ci stanchiamo, che noi non molliamo, ma soprattutto faremo passare quelli che sono i beni di prima necessità, parlo di nafta per gli ospedali per i riscaldamenti, medicinali, pasta, pane, ste cose scudate mille, solo roba locale. Come c'è? Un latte parmalat? E domani signora, lì un latte parmalat non so fatta, se cazzo a Zappalago fanno a Carragusa. Un latte solo a Catania.